buon pomeriggio allora sperando che quando avrete questo video che saranno le 16 ci siano le lavorazioni del bonus 150 euro speriamo perché ormai si vive di speranze no allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanella per ricevere i notifichi e ringrazio tutti quelli che condividono e commentano il mio materiale io me la voglio prendere con una persona in particolare comincio da lui per quando hai discesa con persona una persona che pensa che rispetto sia dovuta la carica e non è così ve l'ho sempre detto rispetto lo si dà le azioni non alle cariche che dorme praticamente tutto l'anno sempre in comune che ha firmato ci ha bollinato questa legge di bilancio senza dare alcun segnale di senza neanche dire ma sinceramente sta legge fa schifo poi per il meccanismo se l'avessero ripresentato uguale avrebbe dovuto firmarla tutto collo ma intanto dai un segnale cioè fai vedere che questa roba qua ti fa schifo perché mi sono discretamente rotto le balle di un dormiente che firma perché o fai il presidente o ti levi dal cazzo io avrei voluto vedere uno come pertini ma anche uno come costiga che è proprio della trasponda politica firmare sto abrobrio probabilmente gli avrebbe tirato in costa poi sarebbe stato obbligato a firmarlo se venivano ripresentato la seconda volta ma la prima volta glielo tirava in costa ma questo firma come se non ci fossero problemi poi a capodanno vi farà il fervorino sull'evasione fiscale vi farà il fervorino sul lavoro e tutte queste menate i politici da prodire e anche le fuoche monache del video di precedente tutte da applaudire che belle parole io me ne sbatto i codioni delle parole io voglio i fatti le parole in questo senso di un politico valgono come una scorreggio in un uragano per piacere smettiamola di coccolarle questi individui smettiamo è un padre io me ne un padre deve essere un padre e siccome tu sei tu deve essere essere il garante del popolo che è il popolo lo stato non i politici e quando vedi che i politici fanno porcate verso lo stato cioè verso il popolo ti dovresti incazzare non starte nell'immuto e firmare qualsiasi cosa che ti passano sotto mano perché già hai firmato quel decreto contro anti re che era scritto con il culo poi hai firmato sta cosa e poi ribadisco a capodanno fra il fervorino solito e io spero onestamente che gli italiani la piantino di guardare questo fervorino di san silvestro perché dietro c'è nulla dietro non c'è una persona che si prende delle responsabilità c'è nulla che dice delle cose come un prestampato cioè è imbarazzante se l'hai firmato vuol dire che sei d'accordo io me ne sbatto del discorsi cosa doveva fare dava un segnale poi sarai obbligato a firmarlo va bene ma dai un segnale per dire quella roba ti fa schifo cazzo c'è arrivato scalfaro a far incazzarsi così tu che sei di sinistra mangi veramente di tutto e te ne freghi altamente l'importante che non ti scassino le balle mentre ti fai altri sette anni di criocella così ti conservi bello e fresco secondo abbiamo adesso non so che quotidiano devo cercarlo ancora comunque ringrazio fabrizio ma sarà della sponda libero il giornale o la verità la sponda è quella che ha detto che la manifestazione di palermo è stata un flop è che c'erano solo 200 persone io non lo so se ce ne erano 200 2000 20 mila non me ne frega propriamente una mazza è il segnale di un disagio i segnali vanno sempre rispettati perché io i numeri gonfiati delle manifestazioni li conosco li conosco e quando vi fa comodo cari puzzoni folle oceaniche quando sono in quattro gatti basta che sia un controparte certo avrei voluto veramente lo dico vedere una partecipazione anche di altri partiti che aprono bocca sui disagi dei poveri e poi non ci sono mai in primis il pd ma tanto pd è un partito di centrodestra ma in secondo ed è quello il motivo per cui ho fatto il video di ieri sulla vicenda su amoro sinistra italiana e compagnia io lo dico onestamente a buonelle fratelli io me ne sbatto letteralmente il cazzo di quello che sta succedendo a sto tizio non me ne frega niente con quello che sta succedendo a centinaia di migliaia di persone di qualsiasi colore etnia fede religiosa fede politica io mi preoccuperei di quelli non di troiai in cui si è infilato sto pagliaccio che è stato messo lì semplicemente perché è una figurina e non gli avete neanche verificato effettivamente che persona fosse che è sempre in televisione a fregnare e a blatterare mentre le persone che dovrebbero parlare dei poveri non ci sono mai per cui ragazzi io non ho i numeri tra l'altro ringrazio la maria fiorella il problema è che quello che mi ha mandato sono file di facebook quindi giacomo sta cercando modo di scaricarli perché così come sono sono inutilizzabili non si riesce a scaricare il video si può solo condividere il file e è uno dei file tra l'altro senza audio ma ringrazio anche chi li ha mandati ad esempio a elena che so che li ha caricati mi ha detto è guagliardito di quel cognome scusami perché non mi ricordo il nome va benissimo non sono mica uno di quelli che mette il ditino e anzi più più li condividete meglio è però dico perché vediamo quella di roma quanti saranno se vediamo se anche lì hanno il coraggio di dire che è un flop perché per me flop sono quelle che ha te letta con le due sit in da pagliacci e flop è il fatto che comunque il pd non c'era perché loro vogliono fare la grande manifestazione unitaria invece di infilarsi in qualsiasi manifestazione che c'è per dare un segno di presenza e tanto per dire l'ho detto nel video prima la porcata di 60 euro è anche questa contro i poveri che sono obbligati a usare la carta e anche questa aiuta l'evasione la porcata di 5 mila euro anche questa aiuta l'evasione però nel pnrr c'è scritto proprio che l'italia deve lottare contro l'evasione cerchiamo di connettere cervello e culo adesso la legge passa alla camera e poi il senato potrebbe essere ancora modificata sì la bollinatura riguarda la presentazione della bozza chiediamo le cose non è che la bollinatura la fa diventare scritta nella pietra è adesso passa la camera al senato e vediamo cosa succede però le misure che ci sono per favore lo ribadisco la signora meloni non dica che sono a favore dei più fragili perché io nei confronti dei più fragili vedo solo vessazione tagli ai fondi tagli economici aumenti delle pensioni stendiamo un pietoso velo perché aumentano le pensione da una parte le riducono dall'altra riduzione degli assegni unici non rdc e quindi anche quelli rdc ne verranno investiti ma comunque per loro è un problema che non conta perché è dove sarebbero le misure a favore dei poveri a la carta la famosa carta la nuova carta di solidarietà possiamo chiamarla così che ha un fondo di soli 500 milioni verrà spappolato in due o tre mesi quel fondo lì e questa qui sarebbero le misure a favore dei poveri abe vero sì la grande massa economica a favore della della crisi energetica sì però i costi dei carburanti il taglio sui costi dei carburanti viene dimezzato anche questo a favore dei poveri complimenti e se queste sono le misure a favore dei poveri non voglio immaginare se ce l'aveva ancora più a morte con i poveri cosa faceva questa qui non era robinù della rovescia come ha detto qualcuno queste super chuk queste super chuk di alan ford che rubava i poveri per dare ricchi e questa la realtà è soltanto che la pancia piena può dire questa da buona manovra ricordando però anche a loro che attenzione perché si fa poco si fa in fretta scivolare dalla pancia piena alla pancia vuota e quando ci siete dentro e lo ribadisco come ho detto ieri in live se hai votato la meloni tu non chiedere le rdc e non andare alla caritas non ce la fai a campare i cazzi tuoi perché la scelta l'hai fatta tu te ne prendi le responsabilità perché non non si non si piscia nel piatto in cui si mangia e questa è la realtà in questa è una legge che quali di prima al conto 1 conto 2 erano gli scappati di casa questi cosa non come dovremmo valutarli perché se quali erano gli scappati di casa questi tu sono scappati da un altro posto in cui generalmente ci sono le stanze imbottite per evitare che si facciano male dando testate a veramente siamo di fronte a un a una pagliacciata mostruosa e ritorno a dirlo che per favore il dormiente non si permetta di dire nata a capodanno le solite stronzate perché ad agosto ci saranno centinaia di migliaia di famiglie che saranno sull'astrico senza nessun muto e magari lui verrà ancora tira fuori la stronzata del e il lavoro così le stronzate non non portano lavoro bisogna fare le cose seriamente se non siete in grado di fare le cose seriamente lascia la porta fuori dai coglioni punto diciamo vediamo cosa succede a rom mi raccomando a roma in tanti ma che queste due non siano domani queste sono isolate devono muoversi in tanti devono muoversi in tanti in ogni luogo e spero che onestamente si dia una svegliata anche al nord visto che la meloni piace tanto il signore degli anelli parafrasando quello che dice re teoden quando aragon entra nella stanza il sud sta chiamando e il nord deve rispondere non può stare lì a dormire semplicemente perché ha pochi percettori perché la crisi investirà tutti e sarebbe ora che l'italia e gli italiani si muovessero da italiani e non guardassero che non abbiano più un orizzonte che non va al di là del proprio comune buona giornata